attenzione ti sgompia io lo volto però vai Marco poi lo manda a te la monti o lo manda a me? io mi riferisco a montare qualche sacco montare due cani e tutto insomma a me siede a me via per tutti gli spingi e gli spingi finito? come sei? Dedo! bello! che passi là? due vai, un uomo è in giallo bene, ci si vede tra testone panazza panazza aspetta, adesso è uscito tre si, fuori gioco si, fuori gioco lo sai? non lo so, mi è saltata la videocamata mentre c'è i godi è saltato? il video mentre c'è i godi non so sicuro è la toccare no, no, mi non ha visto si è fermata qui basta stoccare qui si è saltato tutto ma è incazzata becca al volo eh no, 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 no certo, il ballone ne fa parcellona venerdì si, si, si come è? se no, ma per lo sguardo eh è il mio, è il mio 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 ciao ragazzi ciao 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 prima il portiere o prima l'attaccante? attaccante attaccante, pronto? si portiere pronto? si, tiro oh dio si, tiro si, tiro fuori la solita barzella si, tiro si, tiro toccare becca lascia parata 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 ascia parata ascia parata bravo bravo finita vai e vissero vai al monaco vai facci la foto vai ora vado per sudato bravo è il nostro grande Christopher e FunDevato bravo come per Autore dei sorrisi